Si tinge di bianca-azzurro la terza edizione del Memorial Fuzio, al degli olivi si sono lanciati il guanto di sfida alla Fidelisandria, che disputerà il prossimo campionato in Serie D, e il Bari di Davis Mangia. In realtà per i biancorossi sono scese in campo le cosiddette seconde linee e ci sono voluti i calci di rigore per decidere la gara. La curva andriese era quasi piena, molto meno quella destinata ai tifosi del Bari, ma è stato bello respirare il clima di amicizia che c'è tra le due piazze. Per il Bari assenti dunque i big, o comunque quelli che potrebbero scendere in campo a Chiavari contro l'Entella. Fatta eccezione per Guarna, Caputo e Massimo Donati, quest'ultimo la prima apparizione dopo l'ufficialità del suo ritorno. C'era anche l'altro neo acquisto, Minala. Il primo tempo si è chiuso con gli ospiti in vantaggio grazie alla rete in avvio di Ciccio Caputo. Bella squadra l'Andrea, attenta e vogliosa di far bene contro una squadra di due categorie in più. Salviato, Contini, Camporese e Filippini, difensori scelti dal primo minuto. Stefanovic, Partipilo, Donati, Minala e i centrocampisti, mentre Caputo e Albadoro hanno guidato l'attacco. Nella ripresa si sono visti anche altri volti nuovi. Tra cui quello di Gomelt, 19enne croato proveniente dal Tottenham. Anche negli amichevoli per il Bari vince la legge dell'ex e infatti la rete dell'1-1 porta la firma di Strambelli. Prima della rete del pareggio i padroni di casa rimangono in dieci per l'espulsione di Lavopa, Reo di aver dato una manata a Camporese. Per assegnare il trofeo ci sono voluti i calci di rigore. L'Andrea non è sbaglia uno, il Bari troppi. Anzi, il solo Rozi realizza e così sono i padroni di casa a vincere. D'in bocca al lupo per i rispettivi campionati però va ad entrambi i club pugliesi.